Ed è proprio un autogol! Nel golant! Ottimo l'intervento del portiere! Palla fuori, sarà corner! Modric! Trova il compagno! Feguli! E c'è il gol! Palla in rete! Hanno subito il gol del pari e questo ovviamente li allontana dall'opportunità! Pereira! Una grandissima parata questa! E sarà calcio d'angolo! C'è la frateria per andare! Di Maria! Attenzione! Ecco il gol! Si sono portati in vantaggio! Se riusciranno a chiudere la partita con una vittoria avranno fatto un grande passamanti verso la conclusione! E sarà calcio di rigore! Solo cartellino giallo! Direi che gli è andata bene! Direi di sì! Decisamente andava verso la porta! Intervento da Cappellino! Recupera un gran pallone! Prova ad andare! Attenzione! Rente! Stanno dilagando! Si vede che il titolo è davvero a portata di mano! Grande autostima! Grande sicurezza! Grazie a tutti!